Sulla regione nel fine settimana tornerà a posizionarsi l'anticiclone con aria mite e secca in quota. Avremo quindi sia sabato che domenica cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione con temperature minime piuttosto basse e pari a meno 4 gradi in pianura, valori invece di 4 o 5 gradi positivi lungo la costa. Sui monti in versione termica è marcata e specie di notte nelle valli dove le temperature scenderanno abbondantemente sotto lo zero. Lo zero termico invece si troverà a 2000 metri circa. Tempo buono con temperature massime in aumento e quindi leggermente superiori ai 10 gradi nella giornata di lunedì. Per martedì prevediamo il ritorno della bora e di temperature più basse. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.